Ciao da Dario di Alternativa Linux. In Linux puoi installare differenti ambienti desktop e scegliere con quale pilotare graficamente il sistema operativo ad ogni inizio sessione. Molte distribuzioni prevedono varianti caratterizzate da differenti DE . Il modo migliore per provare un ambiente desktop credo che sia usarlo con una distribuzione che la integra nativamente. Ma ecco come installare ulteriori tra i più diffusi ambienti desktop per Linux, argomento richiesto più volte, ma non consiglio a tutti la pratica. Tutti i comandi citati sono già riportati nella pagina blog che metto nella descrizione. Ho effettuato i miei test con Linux Mint 20.2 Cinnamon e con Zorin OS 16 per l'ambiente Cinnamon. Le istruzioni di installazione si applicano anche a Ubuntu e derivate, Elementari OS, Zorin OS, Pop OS e altre su base Debian. A differenza di Windows e Mac OS per i quali non viene data molta scelta sull'aspetto, la maggior parte delle distribuzioni Linux per desktop prevede molteplici cosiddetti DE , cioè ambienti grafici differenti, sviluppati da specifici team con progetti sempre aggiornati e seguiti con grande interesse nella comunità Linux. Gestione di finestre, utilità, file manager e impostazioni differenti per pilotare il medesimo sistema operativo. Ogni ambiente prevede specifici punti di forza, utilità di contorno ben studiate o particolari elementi stilistici. Se l'argomento ti interessa ma non conosci i principali ambienti grafici puoi partire approfondendo GNOME già con l'edizione principale di Ubuntu e degli altri ambienti desktop tra i più diffusi con le derivate di Ubuntu. Potrebbe interessarti anche il mio video sulle migliori distribuzioni Linux per principianti 2021 o sapere come scaricare e provare una distribuzione Linux senza neppure installarla. A mio parere il miglior modo per scoprire un ambiente grafico è provarlo con una distribuzione Linux che lo preveda nativamente. Ma dagli archivi software di Linux Mint, Ubuntu e altri si possono scaricare ulteriori ambienti desktop oltre quello già fornito con la propria distro. Poi al login basta ogni volta selezionare con quale DE effettuare l'accesso al sistema. Ritrovi ovviamente programmi installati, spesso anche le icone sul desktop, ma menu, finestre e specifiche impostazioni differenti. Una volta installato basta riavviare o semplicemente terminare la sessione e tornare al login per una nuova selezione dell'ambiente grafico. In molti OS su base Linux, nella schermata di login o accesso basta cliccare il logo dell'ambiente desktop accanto al nome utente per mostrare quelli disponibili. Ho detto che non consiglio a tutti la pratica di installare ambienti desktop, perché non era argomento per principianti di Linux cui di solito mi rivolgo. Se ti piace sperimentare, scoprire e testare ok, ma se cerchi affidabilità e stabilità meno, perché aggiungere un ulteriore ambiente desktop comporta l'installazione di ulteriori file manager e software che non solo possono non funzionare come previsto, ma anche intervenire con l'ambiente predefinito. L'installazione non restituisce mai un'esperienza pari a quella con un ambiente grafico nativo. Comporta il rischio di anomalie nel comportamento delle finestre e di complicarsi la vita in caso di aggiornamenti. Inoltre, disinstallarlo e rimuoverne le tracce senza fare danni è un compito non per un principiante. Se vuoi un DE specifico in un sistema Linux specifico e impari a gestirlo, ottimo, ma hai forse anche capacità che ti consentirebbero di farti una distribuzione su misura con Kubik, spogliandola dell'ambiente grafico per cucirci sopra quello che desideri con utilità che vuoi, oppure ricorrere all'utilità Debian Task Cell per la migliore gestione di installazione e disinstallazione di ambienti grafici. Ma non sono argomenti che intendo approfondire in questo video. Installare addirittura molteplici ambienti desktop, a mio parere, significa andarsi a cercare anomalie. È tempo da dover dedicare a far funzionare al meglio le cose, non proprio il massimo su una postazione per cui si chiede a Linux affidabilità e stabilità. E sarebbe poi folle ci si ritrovasse senza aver creato un punto di ripristino del sistema, uno snapshot con timeshift prima di iniziare qualunque esperimento. C'è un altro motivo per scegliere una distribuzione anche per l'ambiente già adottato. Nei repository della tua distribuzione Linux potresti non trovarlo tanto aggiornato quanto in quelle che lo integrano nativamente. Faccio un esempio. In Linux Mint 20.2 ho la versione 5.0.3 di Cinnamon. Debian 11, rilasciata da pochissimo, prevede nei suoi repository la versione 4.8. Zorin OS 16, addirittura la 4.4. A un utente abituale di Cinnamon fa l'effetto di ritrovare il computer invecchiato di un paio d'anni. Ti piace Cinnamon? Non potrai mai capire come può funzionare se non con Linux Mint. E se non lo fai, ne stai adoperando una versione vecchia e ti potresti fare un'opinione sbagliata. Circa anomalie da me riscontrate, ad esempio dopo l'installazione del desktop KDE Plasma 5.13 in Linux Mint 20.2, nell'uso dell'ambiente Cinnamon il puntatore della freccia è diventato quello nero del desktop Plasma e le finestre di programmi KDE precedentemente installati come Ocular e Kdenlive sono come rese estranei a certi scorciatoi di tastiera di ambiente Cinnamon perché pare come prevalere l'ambiente KDE. Non sono riuscito a far funzionare il desktop XF-CE4 se non nella versione rilasciata per il desktop Xubuntu. Durante una sessione con ambiente Gnome mi sono ritrovato ad aprire le impostazioni del desktop Plasma. Durante sessioni Gnome o Cinnamon o XF-CE le icone di sistema con Bluetooth, audio ed altre erano spesso triplicate oltre lo stretto ambiente di riferimento. Problemi affrontabili, ma ritengo valga la pena affrontarli solo in un'ottica di test e studio. I comandi che illustro usano il comando apt adottato dai sistemi basati su Debian come Ubuntu e derivate, Linux Mint, Elementari OS, Zorin OS, PopOS e tante altre. Non possono quindi funzionare così come sono in distribuzioni Linux su base Red Hat o Arch, ma nel centro software e nei repository, gli archivi software, della tua distribuzione dovresti ritrovare i medesimi pacchetti o poter provvedere all'installazione tramite comandi differenti. Al limite ti basta cercare Installare, nome ambiente, versione OS e ci arrivi con i primi 5 risultati del motore sicuro. Segnalo comandi da impartirsi in una finestra di terminale. Se incompevolmente non lo sai, l'icona per avviarne una ha sempre l'aspetto di uno schermo con un dollaro sopra. Io in Linux Mint, ma vale anche per altre distribuzioni, uso la pressione contemporanea dei tasti CTRL, ALT e T per aprirne una. Ma puoi anche provvedere graficamente all'installazione dei file per gli ambienti desktop in Linux, dal centro software della tua distribuzione o anche dal suo gestore pacchetti, Synaptic per Debian, Mint e Ubuntu. Se sei smaliziato utente Linux, fai una ricerca sull'utilità Taskcell perché potrebbe essere lo strumento migliore per la gestione di ambienti desktop supplementari. Per quanto riguarda specificamente Linux Mint, ma anche Ubuntu ed altre distribuzioni Linux, la richiesta di installare un pacchetto, come il principale cosiddetto metapacchetto di ogni ambiente grafico, fa suggerire dal gestore di installazioni quali sono le dipendenze, gli ulteriori pacchetti richiesti o raccomandati per il funzionamento, che poi vengono installati automaticamente. Una volta terminata l'installazione, termina la sessione o riavvia, anche con il comando reboot se stai operando nel terminale. Poi accedi di nuovo al sistema. Accanto al nome utente con cui collegarsi troverai un pulsante con l'elenco degli ambienti desktop installati e potrai selezionare quello desiderato per la sessione prima di procedere al login. Documento che in Zorin OS16, in cui ho installato Cinnamon, per scegliere l'ambiente grafico si deve prima cliccare sull'utente con cui accedere. Questo fa apparire un'icona a forma di ingranaggio nel lato inferiore destro dello schermo. Cliccandola si accede alla selezione degli ambienti grafici disponibili. Il pacchetto iniziale installato non comprende tutto quanto scaricato e non viene rimosso automaticamente tutto quando rimuovi il primo. Per la disinstallazione suggerisco alcuni comandi, ma per ripulire proprio per bene si dovrebbe tenere traccia dei pacchetti supplementari installati per rimuovermi simultaneamente. Da riga di comando o dal gestore pacchetti. Creare un comando di rimozione apt purge con l'intero elenco dei pacchetti precedentemente installati e salvarlo come testo può tornare utile in fase di disinstallazione, da terminale. Ma la situazione cambia tra una distribuzione e l'altra. Che tu ne tenga traccia durante l'installazione o che li cerchi per parola chiave, puoi rimuovere tali pacchetti anche senza riga di comando, ma tramite interfaccia grafica. Con il gestore pacchetti Synaptic, previsto anche in Linux Mint, Ubuntu e altri distro, o altro equivalente della tua distribuzione. Con Synaptic si ha accesso in forma grafica a molti dei più comuni comandi apt di gestione pacchetti. Con tale strumento puoi vedere l'elenco dei pacchetti dei repository e quelli che sono installati. Puoi marcare per la rimozione più pacchetti da una multiselezione o uno alla volta e applicare infine le modifiche per fare il miglior lavoro di pulizia. Nel dubbio meglio lasciare un file che eliminarne uno necessario al sistema. Quando serve lo spiego meglio oltre. Ma ovviamente è più facile da terminale sapendo come fare. Cioè con i comandi descritti che spero si adattino non solo a Linux Mint 20.2 Cinnamon. Oppure si può approfondire l'utilità Task Cell citata. Puoi provare l'ambiente KDE Plasma al meglio anche con Kubuntu o KDE Neon o Mangiaro KDE solo per citarne alcuni. Ma puoi anche installare l'ambiente Desktop KDE in una distribuzione Linux che non lo preveda. Cerca il pacchetto KDE Plasma Desktop nel centro software della tua distro. Oppure in una distribuzione su base Debian che usa APT in alternativa lancia questo comando in una finestra di terminale. Io sto usando Linux Mint 20.2 Cinnamon. Si tratta di scaricare circa 140 MB di dati. Quando richiesto di selezionare tra i differenti gestori di schermo LightDM e SDDM scegli con la freccia della tastiera LightDM e premi il tasto invio. Se ti viene mostrato l'elenco di panchetti aggiuntivi da installare tramite il centro software farei uno screenshot o esporterei comunque l'elenco. Come detto un comando di rimozione con l'intero elenco può tornare utile in fase di disinstallazione. Poi in Linux Mint premo semplicemente la combinazione di tasti CTRL ALT CANCH e premo invio per terminare la sessione e ritrovarmi al login. Ed ecco una rapida occhiata al desktop KDE Plasma 5.18 in Linux Mint 20.2 Cinnamon. Diversi autorevoli siti web stranieri suggeriscono un comando. Io temevo si portasse via anche programmi preinstallati di provenienza del team KDE come Ocular e Kdenlive ma non ho avuto problemi successivi alla rimozione in Linux Mint 20.2 Cinnamon. Casomai cercando il termine Plasma nel gestore pacchetti Synaptic ho trovato diverse occorrenze legate a programmi e utilità dell'ambiente in questione che pure non hanno KDE, Kubuntu o Plasma nel nome del pacchetto. E le ho rimosse. Se agisci da terminale per le rimozioni aggiungi poi il comando sudo apt auto remove. E riavvia. L'ambiente grafico gnome lo trovi già nella edizione principale di Ubuntu e in tante altre distribuzioni Linux. Per installare in Linux l'ambiente gnome vaniglia, in Linux Mint come nel mio caso puoi cercare nel tuo centro software ed installare i pacchetti gnome session e, se non viene già incluso automaticamente con il primo, anche il pacchetto gdm3. Oppure puoi impartire al terminale il comando sudo apt install gnome session gdm3 e hai già fatto lo stesso. Se nella finestra in stile terminale che si apre viene data scelta da differenti gestori di finestre, gdm3 è più nuovo di LightDM ed è la scelta più adatta. Se sei temerario puoi installare anche le utilità di sistema gnome twix per modificare ulteriormente l'aspetto dell'ambiente. Trovi gnome twix nel centro software o lo installi con il comando sudo apt install gnome twix. Ed ecco una rapida occhiata al desktop gnome in Linux Mint 20.2 Cinnamon. Per rimuovere l'ambiente gnome precedentemente installato, se lo hai installato dal centro software come gestore applicazioni di Linux Mint, puoi ricercare i due pacchetti installati e rimuoverli singolarmente. Oppure impartisci, prima uno poi l'altro, i seguenti comandi in una finestra di terminale. sudo apt purge gnome shell sudo apt auto remove. In Linux Mint buona parte del desktop Cinnamon è basata su tale ambiente, quindi anche se non è sufficiente rimuovere ogni singola traccia, lascerei le cose come sono per non interferire con il sistema. Riavvia e sei a posto. L'apprezzato ambiente Mate può essere provato al meglio con Ubuntu Mate o Linux Mint Mate Edition tra le tante. Il risultato non sarà identico all'uso di Mate in modo nativo con queste distro Linux, ma ecco come ho installato in Linux Mint Cinnamon. Cerca nel centro software, nel gestore pacchetti, Mint Meta Mate o installalo lanciando nel terminale il comando sudo apt install Mint Meta Mate. Ecco come si presenta il desktop Mate installato in Linux Mint 20.2 Cinnamon. L'ambiente Cinnamon di Linux Mint ricorre normalmente ad alcune componenti del desktop Mate, quindi se usi Mint Cinnamon e devi rimuovere Mate, devi fare attenzione a cosa rimuovi. E forse potresti anche non riuscire a rimuovere tutto. Il mio consiglio è quello di usare il gestore pacchetti Synaptic. Aprilo e una volta sparita la clessidra per l'aggiornamento degli indici, cerca il termine Mate e scorri fino ai risultati che cominciano per Ubuntu Mate trattino per verificare quali siano installati. Puoi selezionare e poi cliccare con il pulsante destro e marcarli tutti per la limozione e applicare le modifiche. Allo stesso modo devi poi cercare i pacchetti che cominciano per Mate trattino, ma sappi che se usi Linux Mint 20.2 Cinnamon i seguenti pacchetti non vanno rimossi. Se adotti una distribuzione Linux che non ha parentele di genere con l'ambiente Mate puoi invece provvedere con il comando. Completa la pulizia lanciando il comando sudo apt-auto-remove. Consiglierei di provare l'ambiente XFCE con Xubuntu, Linux Mint XFCE, ma anche Linux Lite o mangiare XFCE. XFCE installato in Linux Mint 20.2 Cinnamon, forse per la particolarità dell'hardware e della versione di kernel, mi ha dato problemi. Ma forse tu sei più fortunato e puoi cercare nel tuo centro software o gestore pacchetti proprio XFCE4 o provare a lanciare nel terminale sudo apt install XFCE4. O come spiego all'inizio, cercando il pacchetto nel centro software o gestore di pacchetti installandolo da interfaccia grafica. Però segnalo che l'installazione di XFCE4 in Linux Mint 20.2 Cinnamon, sia da gestore applicazioni che da terminale con il comando citato, non mi ha consentito di far funzionare la sessione XFCE4 che pure avevo trovato al login. In particolare non si avvia il menu principale. Ho provato anche a installare pacchetti che credevo facessero la differenza, legati al plugin Whisker Menu, ma senza successo e senza neppure poter terminare adeguatamente la sessione. Non ho indagato molto perché c'è una strada alternativa. C'è un altro modo, benché indiretto, di provare XFCE4 in tutti i casi, ricorrere alle versioni messe a disposizione di Ubuntu per le sue derivate Xubuntu che si basa appunto sull'ambiente grafico XFCE. Secondo il wiki di Ubuntu, sull'argomento, si possono cercare di installare alternativamente i pacchetti Xubuntu Core o Xubuntu Desktop a seconda se si desideri il minimo dell'ambiente grafico di Xubuntu o il pacchetto completo con alcuni programmi oltre al file manager tuner tipici dell'ambiente. O puoi installarli da terminale alternativamente con sudo apt-get install Xubuntu Core oppure sudo apt-get install Xubuntu Desktop. E infine riavviare per accedere con una sessione XFCE. Con Linux Mint 20.2 i repository prevedono la versione 4.14 di XFCE mentre scrivo ed ecco come si presenta caricato sul desktop della edizione cinnamon. Nulla di più semplice che rimuovere l'ambiente grafico XFCE se non con il comando per terminale sudo apt-remove XFCE4. Se ha installato Xubuntu Core o Xubuntu Desktop parti sicuramente ricercandoli e rimuovendoli dal centro software se li ha installati da lì oppure da terminale con questo comando. Se rilevi ancora traccia nel gestore pacchetti cerca tutte le occorrenze di pacchetti installati che cominciano per XFCE4. Marcali per la rimozione e rimuovili. Al successore avvio ogni traccia dovrebbe essere eliminata. Nel gestore pacchetti Synaptic di Linux Mint, Ubuntu e altri vi è una sezione relativa ai repository per l'ambiente grafico XFCE. Tutti i pacchetti eventualmente installati che non risultino parte del sistema sarà possibile rimuoverli per la maggiore pulizia. Se al riavvio successivamente noti ancora tracce come il file manager, tuner o altre utilità o pacchetti relativi a XFCE provvedi come indicato poco sopra con gestore pacchetti nelle sezioni relative all'ambiente XFCE o cercando e rimuovendo pacchetti installati che rispondono alle ricerche su Ubuntu o XFCE4. Il modo migliore per provare l'ambiente grafico Cinnamon elegante ma snello è Debian 11 Bullseye Cinnamon. Una battuta non troppo tale per chi poteva pensare di cessi Linux Mint. No, nell'ottima Debian 11 con base kernel e programmi in versioni più aggiornate rispetto a Mint, l'ambiente Cinnamon è ancora previsto nella versione 4.8, in Zorin OS 16 nella versione 4.4 e non nell'ultima e rinnovata versione 5.0.3 di Linux Mint 20.2, che è quindi il miglior modo per provare l'ambiente grafico Cinnamon. Per l'installazione, come suggerito dettagliatamente anche nel wiki di Ubuntu, si possono cercare nel proprio cestro software o nel gestore pacchetti, alternativamente due pacchetti. Cinnamon oppure Cinnamon Desktop Environment. Il primo limita i file necessari richiesti e funzionalità al solo ambiente grafico. Il secondo include anche componenti, strumenti e programmi forniti con Mint e per esso sviluppati. In una distribuzione su base Debian, come tutte quelle citate all'inizio, il comando da impartire nel terminale sarà sudo apt install cinnamon, oppure sudo apt install cinnamon desktop environment, per installare rispettivamente solo l'ambiente grafico o anche strumenti e programmi. Ho installato Cinnamon in versione completa in Zorin OS 16 ed ecco il desktop familiare agli utenti di Mint con Desklet e Applet. Per la rimozione dell'ambiente grafico Cinnamon i primi due comandi da eseguirsi uno dopo l'altro sono e sudo apt auto remove. In alternativa puoi cercare nel gestore pacchetti della tua distribuzione tutte le occorrenze di pacchetti che contengono il termine cinnamon, marcarli per la rimozione e rimuoverli definitivamente. La grande varietà di ambienti grafici disponibili per chi adotta un desktop con Linux sono tante e forse pure troppe. Troverai già inclusi all'installazione i più noti ed è così che consiglio di provarli, ma puoi aggiungerne e provarne altri. Installare è facilissimo ma anomalie e complessità nel rimuoverne le tracce vanno messe in conto. Gli esempi da me citati coprono test effettuati principalmente con Linux Mint 20.2 Cinnamon e non sono quindi in grado di valutare né mi assumo responsabilità per conseguenza inattesa in altri scenari. Se hai problemi nel tutorial ho suggerito di creare un punto di ripristino del sistema e spero tu non salti questo passaggio o se comprometti qualcosa a non cercare lontano il colpevole. Comunque ti consiglio di verificare in un motore di ricerca la situazione per la tua distribuzione e lo specifico ambiente desktop o di chiedere nel forum dell'uno o dell'altra perché la mia esperienza è limitata a ciò che ho documentato. Grazie per il tuo interesse e alla prossima. Ciao!